Ciao bambini! Bentornati al Belly Wheel! Io sono l'esperta nel mondo di Bellies e loro sono i piccoli Bellies Ti ricordi? La piccola... Pinky Drink! Pinky Drink! Mioch Mioch! Mioch Mioch! Yummy Yummy! Yummy Yummy! Bobbi Boo! Bobbi Boo! Quattro piccoli Bellies E com'hai già letto oggi parliamo della Mioch Mioch! Arriva il mio passione! Becciupè! Mioch Mioch! E' un'ottima notiziazione! Ah! Avete sentito? La Mioch Mioch sta parlando! Sai cosa ha detto? Dice di raccontare la storia del suo nome! Va bene! Allora vado! Tutto cominciò quando la piccola Mioch Mioch era sul nastro trasportatore per farsi mettere il marchio! Questo piccolo cuoricino che ha sulla chiappa! E purtroppo quando era rimasta solo lei sul nastro il nastro si fermò proprio sotto la macchina che fa dei marchi e così la piccola macchina si riempie di cuoricini e diventa super affettosa! Però vi dico un segreto la colpa è stata della cigogna che si era addormentata e ha schiacciato pertanto il bottone per questo c'era un sacco di cuoricini per questa ragione lei si chiama Mioch Mioch visto che è super affettosa e invece lei ora è molto arrabbiato con la cicogna quindi fa sempre le berichinate con i cavi ma dove sei andata piccola? ecco per questo adora giocare con dei cavi super colorati soprattutto preferisce qualsiasi apparecchio elettronico cioè computer ma anche il macchinario del caffè ma è bravissima riesce sempre a mettere a posto tutto tutto quello che fa e lei adora anche un sacco i bacini dai piccola mia piacchina metti a posto quel cavo se no ti fai male guarda un po' ce l'hai da perduto bravissima l'hai messo veloce veloce a posto grande ma sapete cosa meno male che lei sia a metterlo a posto lei è la piccola Mioch Mioch super piccola e super berichina ma è anche molto dolcissima e super impulsiva ed è anche arrabbiatissima con la cicogna perché è stata colpa sua di tutti quei cuoricini se cosa dici qual è il tuo bellez preferito scrivelo sotto nei commenti metti mi piace e guarda i nomi che cosa vorrebbero dire di tutti gli altri bellez nei video prossimi o quelli precedenti iscriviti al canale ciao ciao